... Principessa, aiutatemi, non ho chiuso occhio. Cosa devo fare? Vi ha detto niente di me? Posso sperare? So di non esserne degno, ma... ...la amo da così tanto. Ditemi cosa fare e io lo farò. Penso che questo dobbiate chiederlo a lei. Ora vado a chiamarla. Carissima Natascia. So di essere stato un pagliaccio e di aver sprecato la mia vita, ma devo chiedervelo. Se direte no, andrò a San Pietroburgo e non vi disturberò più. Ma... ...credete di potermi amare? Sì, sì, potrei. Io vi amo già, caro Pier. Sì, sì, potrei.